la lettera la buona tarda ha mangiato i biscotti e il latte mi ha lasciato la lettera qua è scritta, vediamo mamma ha leggito per lui caro steppe sei stato poco monello ma ti voglio bene ti ho portato i regali grazie per il latte i biscotti erano buoni ma ci vediamo dei biscotti oggi vai vediamo da ti piše stefan ok o che vamo baš da sprije vi mora ti piše nije tu ne piše stefan sada i da sada i da nije nisi tu neboga ovdje stefan ovdje piše stefan o che è to 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 natale oh è a busto da gusto qua ma buona natale porto natale a busto vado che bene stai stai rifornuto dopo dai 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 te che è si è sicuro? si è sicuro? uuuu a pisa madonna yeah pisa but this great da 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 siamo finito no e hai dati? no grazie un bacio grazie grazie questo? l'ho capito qua questo ti piaceva? hai visto? è arrivato l'allegro chirurgo doktor è la pista è la è vai vai nooo 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 ok ok grazie grazie grazie